Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento di Antenna 2. Allora, com'è la situazione? Sta decisamente calando la temperatura su gran parte del territorio italiano, soprattutto i temporali che ci hanno interessato nella giornata di oggi hanno determinato una sensibile diminuzione di temperature nell'area prealpina aerobica. Questi temporali poi hanno attraversato tutto il nord dell'Italia e hanno allontanato quest'onda di calore, la prima onda di calore dell'estate 2012 che per ora rimane confinata proprio sull'Italia meridionale. Come andrà nella giornata di domani? Allora, un pochino di instabilità all'inizio della giornata di domani. Avremo qualche locale acquazzone, ma il tempo andrà gradualmente migliorando e nel pomeriggio avremo una giornata decisamente buona con temperature gradevoli nella media del periodo. Ecco, come andrà invece la settimana prossima sul bacino del Mediterraneo e sulla regione alpina? Allora, ritornerà fortunatamente l'anticiclone dell'Azzorre. L'anticiclone dell'Azzorre abbracerà gran parte del territorio occidentale dell'Europa e l'anticiclone dell'Azzorre è garanzia di tempo abbastanza stabile con temperature nella media del periodo. Quindi sembra proprio che l'anticiclone tropicale, almeno per la settimana prossima, l'anticiclone africano sia lontani, resti solo confinato alla Sardegna e alla Sicilia e noi finalmente potremo respirare aria più gradevole proprio per merito di quest'anticiclone. Ecco, vediamo l'animazione da satellite di oggi che vede la formazione di temporali proprio lungo l'arco alpino centro-orientale, frutto di quest'aria piuttosto fresca e instabile che arriva dal nord atlantico, pilatata da questa depressione fra le isole britanniche e la Danimarca. Abbiamo detto il tempo per domani, residui scrosci al mattino, avremo ancora questa lieve instabilità soprattutto sull'area prealpina orobica, quindi nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, queste equazioni che però lentamente si allontaneranno e quindi via via si affaceranno schiarite sempre più ampie a partire da metà della mattinata. Ecco, locali scrosci anche nella Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Seo. Nel pomeriggio abbiamo indicato qualche nuvola a densarsi sulla nostra catena montuosa, ma nulla di preoccupante perché le piogge saranno lontane ormai sul Trentino Alto Adige. Migliorerà anche nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e del Lago di Seo. Diamo uno sguardo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Allora, lunedì ho indicato condizioni di tempo estivo. Tempo estivo grazie all'anticiclone delle Azzorre che è sinonimo comunque di una lieve instabilità pomeridiana. Si faranno le solite nuvole, si formeranno le nuvole in prossimità dei nostri rilievi e qualche acquazzone dovremo metterlo in conto. Temperature decisamente gradevoli, comprese fra 16 gradi e 28 gradi di massima. Acclusone, punte di 30 gradi a Bergamo, ma nulla di significativo, nessuna sensazione di AFA perché ci sarà anche una buona ventilazione. Martedì abbiamo indicato un pochino più di instabilità, qualche acquazzone pomeridiana, un pochino più insistente sulla Valle Seriana. Temperature ancora decisamente gradevoli. Mercoledì e giovedì due giornate davvero belle. con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature estive, gradevoli, buona ventilazione, temperature fresche al primo mattino, vedete 15-17 gradi a Clusone, massime intorno ai 29 gradi, zero termico intorno ai 4000 metri. Venerdì potrebbe ritornare qualche acquazzone locale pomeridiano, ma nulla di preoccupante. Ecco, sabato e domenica prossima potrebbe tornare un'altra vampata di calore. L'anticiclone dell'Azore potrebbe essere sostituito nuovamente dall'anticiclone africano che dovrebbe abbracciare tutto il Mediterraneo centro-occidentale determinando una nuova, la seconda onda di calore proprio per la nostra regione, la nostra penisola italiana. Comunque vedremo l'evoluzione del tempo. Vi aspetto sempre qui sabato prossimo con il meteo di Antena 2.